Musica Una buona serata dalla redazione di Teletruria. Apriamo con la cronaca una notte agitata ad Arezzo, in particolar modo in piazza della Badia, dove un barista è stato ferito per aver difeso i propri clienti. Notte agitata in città con almeno un paio di episodi che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. In particolare un clochard che dormiva sulla griglia di un supermergato in zona Campomarte è stato aggredito da alcuni balordi. L'uomo ha riportato una ferita all'orecchio. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia e l'ambulanza della Croce Bianca. In piazza della Badia una rissa tra tre stranieri ha generato movimento durante la movida del sabato. Nel parapiglia, sedato dall'arrivo anche in questo caso della polizia e da un'ambulanza, è rimasto leggermente ferito il proprietario di un bar della zona. E Carlotta Pianigiani è comparsa in una speciale classifica del Time. L'abbiamo incontrata in videochiamata quando era in una IT assediata dalla violenza. Lei è Carlotta Pianigiani, è aretina al 100%, ma le sue scelte professionali e umane l'hanno portata a vivere in Africa perché lavora per la ONG africana, appunto, a Lima, che si occupa di cure mediche. E proprio per il suo impegno professionale Carlotta è stata inserita dall'emminente Time nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo nell'ambito della salute. Lei figura nella categoria Leaders come esperta di Mobile Crisis Care, ovvero emergenze sanitarie, proprio per aver gestito la crisi umanitaria conseguente ai violenti scontri di Haiti con le bande criminali che avevano preso in mano la città, bloccando anche l'aeroporto. L'accesso alle cure mediche di base è un incubo, riporta il Time, citando Carlotta ad Haiti. E senza dubbio tutta Rezzo oggi è orgogliosa dell'impegno e dei risultati di questa sua figlia in giro per il mondo. Cambiamo argomento, torniamo in centro. Ottimo il bilancio della Fiera di Maggio. L'Antiquari edizione di Maggio traccia un ottimo bilancio. Il meteo ha retto e i visitatori sono stati tanti. Come confermato dal presidente dell'Associazione Arezzo in Tour, per questa edizione rispetto a quella del maggio 2023 si sono registrati aumenti di espositori, in particolare per gli spuntisti, ben sei quelli nuovi, ovvero che non avevano mai partecipato alla Fiera Antiquaria. Un'edizione di maggio che fa ben sperare per quella di giugno, un mese importante per Arezzo, quando ci sarà infatti anche la giostra del Saracino. La Fiera, ha detto il presidente di Arezzo in Tour, si conferma un ottimo volano per pubblicizzare l'intera città. E si è rivelata anche vincente la scelta di Sant'Ignazio per la selezione Arezzo Vintage. Per la seconda volta Arezzo Selezione Vintage si svolge qui all'interno della sala di Sant'Ignazio. Che cosa rappresenta per voi di diverso rispetto al giardino pensile della provincia? Ma è uno spazio nuovo, molto grande, molto razionale, molto particolare. Tutti i turisti, anche gli aretini che entrano, rimangono strabiliati dalla bellezza di questo posto. Questo significa qualcosa di diverso anche dal punto di vista organizzativo? Sì, un po' di organizzazione ci è cambiata, tutto l'accesso alla piazza Carducci, via Carducci, è un po' più complicato, però poi la logistica si organizza in qualche modo. Siete comunque sempre inseriti nell'ambito del percorso della fiera? Sì, siamo dentro e fuori della fiera, diciamo, è una cosa un po' così, però la gente viene, chi viene è interessato, gli operatori sono tutti veramente in gamba, fanno ricerca, portano cose nuove, si trovano delle cose bellissime qui dentro. Quanti sono gli operatori? Qui sono circa una ventina. Ci sono anche diversi ritorni? Sì, sì, qualcuno viene da Firenze, qualcuno viene da Roma, da fuori, insomma. Quali sono soprattutto gli oggetti esposti? Tanti vestiti, tante borse, tante bigiotterie e poi ci sono i dischi, anche qualche oggetto di modernariato, anche se è un po' variata la cosa. Quali sono, a suo parere, le prospettive di questa manifestazione all'interno della fiera antiquaria, in futuro? Ma, dunque, abbiamo fatto molti incontri con gli assessori, con i presidenti delle fondazioni, quindi, insomma, abbiamo trovato questa quadra, ora mi sembra che siamo tutti contenti, quindi dai, buone prospettive. Apriamo la pagina politica, presentata la lista di sostegno a Sergio Chienni. Presentati i nomi che compongono la lista Insieme per Terra Nuova, che sosterrà Sergio Chienni alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. Presso la sala consigliare, ogni rappresentante della lista ha esposto le idee future per il comune. Sono molto felice perché si tratta di una squadra che rappresenta bene il nostro territorio, in maniera diffusa, le frazioni, il mondo dell'associazionismo, dell'impresa, del lavoro, della sanità. Anche tante persone si prodigano nel volontariato perché la quotidianità della nostra comunità possa essere vissuta al meglio. C'eravamo presi l'impegno di costruire una squadra che fosse qualificata, competente e davvero il loro riscontro uno spirito disinteressato, di impegno e di gratuità, che è il miglior presupposto per vivere insieme questa avventura che ci separa da qui al 9 giugno e soprattutto dopo. Nessun assessore dell'attuale giunta è presente nella lista. Queste le motivazioni del candidato Chienni. Noi volevamo che la squadra consigliare rappresentasse un approccio per formare una nuova classe dirigente. Questo assolutamente non esclude che delle figure che sono impegnate oggi in giunta possano essere confermate, ma è giusto anche far crescere quello che sarà il nostro futuro e persone che acquisiscano esperienza per poter amministrare la nostra città con spirito di servizio. Alla presentazione anche il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale per essere oggi qui presente. La Regione Toscana ci ha sempre sostenuto negli interventi che abbiamo fatto per Terra Nuova, nel mondo dello sport, la riduzione del rischio idraulico, il nostro perimetro murario che è molto importante anche da un punto di vista storico-culturale. Quindi lo ringrazio perché la presenza è un segno, un attestato di stima e di fiducia. Raccolta firme contro l'abbattimento degli alberi a Saione, il Comitato scende in piazza. Mattinata in piazza a Saione per portare avanti le idee da parte del Comitato sulla sistemazione della piazza stessa. Siamo qua perché vogliamo continuare a essere presenti sulla piazza. Abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione giovedì scorso, la vice-sindaca e l'assessore ci hanno rassicurato sul fatto che le piante per il momento non verranno toccate e ci hanno riconvocato. Ci siamo aggiornati a giovedì prossimo con dei progetti, due nuove proposte da parte loro e anche delle proposte nostre. Prossimo passo, un incontro con gli assessori Tanti e Casi. C'è un incontro interlocutorio con Tanti e Casi giovedì prossimo. Come dicevo, loro hanno preso una settimana per trovare anche delle soluzioni alternative al progetto. C'è in atto anche una raccolta di firme? Sì, abbiamo già depositato 1067 firme una settimana fa, protocollate, firme cartacee, ma la gente continua a chiederci dove poter firmare per dimostrare così il loro sostegno a questa battaglia nostra. Ecco, dove si può firmare? Si può firmare qui in piazza quando ci siamo, poi ci sono degli esercizi commerciali qui nella zona e poi anche il negozio del centro dove lavoro io, il negozio di eri in Corso Italia. Morì dopo una puntura di antibiotico, è arrivato il risarcimento ai familiari. Una donna viene ricoverata in dei hospital per un'infezione al ginocchio in sorta dopo un intervento chirurgico. Le viene fatta una flebo di un antibiotico e dopo due ore muore per sciocca anafilattico. È accaduto ben 20 anni fa e a distanza di così tanto tempo la giustizia ha la sua risposta alla data. Siamo a Castiglion Fiorentino nella ex struttura ospedaliera. Alla donna di 56 anni, dopo una visita specialistica, era stata prescritta la somministrazione di un farmaco antibiotico da assumere per una ventina di giorni. Appena iniziato il primo trattamento con infusione endovenosa, però la paziente aveva iniziato ad avvertire un bruciore dove era stato introdotto l'ago. Sospeso il trattamento dall'infermiera, il bruciore si era irradiato a tutto il corpo, seguito da difficoltà respiratorie, perdita di coscienza e crisi epilettiche. A niente sono valse le manovre di rianimazione del personale sanitario, ritenuto dal Tribunale di Arezzo responsabile del decesso della donna, che si legge nella sentenza poteva essere salvata con un intervento terapeutico di urgenza, tutte procedure eseguibili in reparto. Da queste motivazioni di condanna a carico della ASL Toscana Sud-Est, i parenti della donna hanno avuto un risarcimento pari a un milione di euro. Si è svolta l'Assemblea dei Soci della Banca di Anghiari e Stia. Sentiamo. L'Assemblea della Banca di Anghiari e Stia è appena conclusa con il direttore generale Fabio Pecorari. Subito i numeri di questa edizione dell'Assemblea e i numeri che avete dato sullo stato di saluto della banca. I numeri, innanzitutto, diciamo un utile di 3 milioni e 400 mila euro circa, qualche euro in meno, un po' più basso dell'anno precedente in realtà, ma quest'anno abbiamo accantonato 2 milioni in più per i nostri crediti anomali, perché pensiamo che poi il futuro non sarà poi così sfavillante, quindi bisogna essere prudenti. Gli impieghi stanno crescendo, contrariamente a quello che succede alle altre banche. È cresciuta molto anche la raccolta da clientela, la diretta e indiretta insieme. Abbiamo sorpassato i 780 milioni, ci avviciniamo agli 800 milioni, quindi siamo lanciati bene e vuol dire che i nostri clienti ci danno fiducia. E poi quest'anno, non so da quanti anni sono che non è, ma c'è un dividendo, quindi torniamo a distribuire ai nostri soci un piccolo riconoscimento, 1,10 euro per ogni azione, che non è una cifra enorme, però rappresenta oltre il 4% di rendimento del valore delle azioni, quindi tutto sommato in linea con il mercato. Siamo soddisfatti per questo, siamo soddisfatti perché ci sono, come sempre, state tante persone all'Assemblea, abbiamo avuto apprezzamento. Con il Presidente Paolo Sestini, oltre 1100 soci partecipanti a questa Assemblea, numeri come ogni anno straordinari, possiamo dire anche in crescita. Sì, per fortuna cresciamo, dopo un buon 2022 abbiamo avuto un altrettanto buono 2023 che ci ha permesso di aumentare il dividendo per i nostri soci, anzi è la prima volta dopo tanti anni che lo diamo, e in più di fare una rivalutazione delle azioni, per cui siamo soddisfatti e speriamo di continuare su questa strada. Un incontro dedicato all'Europa e in particolare all'ottantesimo anniversario del manifesto di Ventotene, il documento per un'Europa libera e unita. La organizza la Fabbrica delle Idee, appuntamento lunedì 6 maggio alle 17.30 nella sala convegni della CGL. Un incontro promosso dalla Fabbrica delle Idee si svolgerà nella sede della CGL di Arezzo. Qual è l'argomento di questo incontro? Sì, lunedì 6 alle 17.30. Sono trascorsi 80 anni dalla pubblicazione del manifesto di Ventotene, 1944-2024. Un documento che oggi viene considerato alla base uno dei documenti promotori delle unità europee. Come si svolgerà questo incontro? Sì, questo incontro parleranno Nencini, nella sua qualità di presidente del gabinetto VS di Firenze, ed Irma Agnolucci, che è una ricercatrice a retina alla Bocconi, sui problemi sul diritto europeo. Questo rientra nella serie di attività che svolge la Fabbrica delle Idee e che sappiamo essere impegnata anche su temi di carattere sociale, se vogliamo. Sì, sì, sì. Noi siamo un'associazione di persone che vogliono incontrarsi periodicamente per confrontarsi su temi sociali e politici in generale. Questo dell'Europa è fondamentale. L'Europa si ritrova in una situazione difficile e complessa e corre il rischio di essere una nullità se non si organizza, se non va avanti. Vi aspettate anche la presenza di alcuni giovani per un argomento che in fondo è storico ma che è di attualità anche. Io spero, ma siamo in un momento dove è difficile portare la gente ad ascoltare, a riflettere e a fare considerazioni. E con un'estemporanea di pittura l'ex cronista di Nera, Remo Croo, ci racconta la sua metamorfosi all'Hotel Vogue. Dalle pagine di Cronac alle immagini che evocano invece il mare e dei suoi quadri. Remo Croo ci ha sicuramente arricchito l'edizione della Fiera Antiquaria con un'esposizione all'Hotel Vogue. Abbiamo incontrato il collega giornalista, oggi affermato pittore, proprio durante l'estemporanea. Torno comunque al Vogue che mi ha ospitato durante il periodo della mia permanenza ad Arezzo da cronista. Oggi ci torno in veste di artista e ho portato un po' il mare qui ad Arezzo con queste tele che rappresentano un po' il mio vissuto. La mostra ha il titolo appunto ieri, oggi e domani perché è un percorso che parte appunto dal mare e attraverso le vele c'è questa nuova vita che è in me e che io ho trasferito sulle tele e con i colori. Senti, come nasce questa passione tra un omicidio e un furto? Beh, guarda, allora dalla cronaca nera come ben sai bisogna sempre avere un po' un distacco. E me, proprio la pittura mi ha aiutato a trovare il bello della vita perché dall'altra parte c'era solo il nero, il buio e mentre con la pittura ho ritrovato un po' questa voglia della vita che è fatta di belle cose e credo che l'arte rappresenti veramente nella maniera migliore. Tu di recente hai anche fatto un omaggio, sei interista, hai fatto un omaggio a Lautaro. Sì, sì, al nostro capitano. Ho riprodotto su tela la prima pagina del Corriere dello Sport con il nostro capitano che esultava per la conquista della seconda stella, del ventesimo scudetto e quindi poi adesso al termine della stagione sarò alla Pinettina per consegnare questo quadro celebrativo da parte di un tifoso di vecchia data. E parliamo di un'altra mostra, quella di Gastone Torini che rimarrà aperta fino al 31 maggio al Castello di Poppi. Si è aperta ieri al Castello di Poppi la mostra di Gastone Torini che è nata a Poppi ma con una vita vissuta ad Arezzo. E se il sindaco di Poppi ha fatto gli onori di casa anche il sindaco di Arezzo è stato presente rappresentando la città dove Torini aveva lo studio e da dove tanti aretini sono passati. Infatti ieri nel Salone delle Feste dei Conti Guidi sono stati tantissimi gli aretini che lo hanno voluto applaudire attraverso la sua arte. Questa mostra finalmente, dico io, celebra di nuovo la sua arte e la sua arte è inconfondibile, è forte, è potente, quasi ti disarma. Il tuo padre piaceva far vedere le sue opere o invece voleva tenerle chiuse dentro una casa? O invece vi ha chiesto anche di farle vedere? No, mio padre ha detto che lui, la vera morte sarebbe stata quella proprio di tenere le opere chiuse. Lui voleva che tutti quanti vedessero le sue opere e poi ci teneva tanto a giudizio degli altri l'impatto che potevano creare sulle persone e ci chiedeva sempre di comunicare il suo pensiero. di trasmetterlo perché comunque lui tutto ciò che denunciava attraverso le figure dei cavalli o le figure dei tori era per stimolare tutti quanti a essere liberi, liberi veramente, senza avere un uniforme, essere se stessi. C'è suggestione, evocazione, sentimento di paura nell'energia che Gastone Torini scatena dipingendo, ha ripetuto ieri al pubblico presente Vittorio Sgarbi, sottolineandolo anche nella prefazione al catalogo della mostra edito da Edizioni Elicon. Tradizionale fiera del fiore, del rame e del coccio a Cortona, presenti numerosi espositori sia locali che provenienti da altre regioni italiane. Un centro storico quasi addobbato e trasformato in un giardino, come osserviamo, grazie alle aziende florovivaistiche della zona e gli artigiani. Cortona ha ospitato una nuova edizione della fiera del fiore e del rame. I banchi hanno occupato soprattutto la zona di Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica e Piazza Signorelli. Tante curiosità, tante anche opere e prodotti della maestria artigianale locale, quindi il modo migliore per presentare anche oggi il nostro centro storico, valorizzare i nostri florovivaisti del territorio e dare quindi anche un'immagine di Cortona che potrà essere veicolata ancora una volta nel mondo, trasmettendo quello che è la bellezza della Toscana, la bellezza di Cortona, quella voglia di dare ospitalità e valorizzazione del senso del bello. La fiera è promossa dall'amministrazione comunale, da confesercenti e dal Consiglio dei Terzieri. Un evento caro ai cortonesi, i quali ne hanno approfittato per passeggiare nel centro storico e per soffermarsi intorno alle bancarelle. Oltre agli americani che comunque tuttora la padroneggiano, abbiamo avuto però anche presenze sudcoreane, taiwanesi e qualche tailandese. In un ambito più europeo invece tanti francesi, tanti spagnoli e del nord Europa. C'è stato ieri l'offerta dei ceri, venerdì sera la colata dei ceri, con tutti i quintieri che hanno partecipato. C'è stato veramente un espload del gruppo storico che quest'anno si è presentato in piazza con addirittura 11 chiarine e è stata una grandissima manifestazione per Cortona. Torniamo a parlare di arte. Ieri a Cavriglia è il quarto simposio della scultura. Si apre ufficialmente il simposio di scultura a Cavriglia in località Bello Sguardo per questo 2024. La quarta edizione cosa vedremo in questi giorni? 12 artisti che vengono da varie parti del mondo, che si confronteranno in questo tema della memoria delle cili nazifascisti appunto a 80 anni di distanza della seconda guerra mondiale. Qual è la tecnica che viene usata? Stiamo usando dei blocchi di Travertino, è una pietra che troviamo qui in locale a una trentina di chilometri a Serra di Rapolano e questi blocchi sono circa 3 metri di altezza, cioè un peso di circa 50 quintali l'uno e verranno nel tempo breve, perché è piuttosto breve, di 3 settimane, e verranno realizzate queste figurazioni che dovrebbero appunto ricordare questa immagine delle cili nazifascisti. Questo è il fine dell'opera. La tecnica è fatta attraverso sempre la scapellatura a mano, ma ovviamente prevalentemente la parte dello sgrosso viene fatta con dei flessibili, con delle macchine, con dei dischi di diamante che tagliano delle parti principali, dopodiché andiamo nella rifinitura. Cosa significa per un artista una manifestazione come questa? L'arte è sempre un strumento per parlare delle cose importanti. Quando c'è questa opportunità che possiamo lavorare in un gruppo, in un simposio, su un tema simile, è molto affascinante anche per noi perché ci sentiamo uniti, uguali, e portiamo avanti un'opera d'arte che alla fine è il risultato di ciò, dell'idea che volevamo trasferire. E per l'appunto, proprio una scultura è stata donata alla comunità di Frassinetto. Il gesso è stato compiuto dallo scultore Fernando Casalini, originario del piccolo paese della Valdichiana. Si tratta di un'opera in bronzo dedicata all'impegno instancabile delle signore del posto. L'iniziativa è stata curata da Francesco Casucci e Gabriele Soldani. Lucignano in lutto per la scomparsa di Massimo Casini, storico presidente della Maggiolata. Casini era il padre di Roberta, sindaca del comune della Valdichiana. Aveva 75 anni e da qualche tempo le sue condizioni di salute non erano ottimali. Casini era rimasto alla presidenza del comitato organizzatore fino a poche settimane fa, quando era stato avvicendato da Guido Perugini. A Roberta e ai suoi familiari giungano le condoglianze di tutta la redazione di Teletruria. Questa sera, dopo il telegiornale delle 20 e 30, potrete assistere a Domenica Sport, risultati e fatti sportivi del weekend a Retieno, in studio Luigi Alberti. Al termine il film Il tesoro dell'Africa, opera e diretta da John Huston, che curò anche la sceneggiatura con la collaborazione di Truman Capote. Cast d'eccezione in cui, accanto a Gina Lollobrigida, compaiono Humphrey Bogart, Jennifer Jones, Robert Marley, Marco Tulli e Bernard E. Introduzione curata, come di consueto, da Barbara Perissi e Luca Bindi. È tutto, io vi auguro una buona serata.